Sono Giovanni Battista Girolomoni e sono il presidente della cooperativa Gino Girolomoni. Qua nella collina di Montebello, oltre che essere agricoltori biologici dagli anni 70, siamo anche mugnai e pastai. Pastai già dagli anni 80 abbiamo costruito il nostro pastificio completamente dedicato all'agricoltura biologica, quindi non solo parte agricola ma anche trasformazione del prodotto per una maggior cura, una maggior tutela e una maggior garanzia di tracciabilità. Siamo riusciti anche a realizzare il sogno del nostro fondatore, che è quello di portare tutte le fasi della produzione di pasta, quindi la produzione di grano, la trasformazione in pasta. Abbiamo anche portato all'interno della filiera la macinazione. Abbiamo il nuovissimo molino che ci permette di essere un esempio unico al mondo di filiera completamente dedicata al biologico, dove ogni singola fase è fatta all'interno della filiera ed è di proprietà degli agricoltori soci. Grazie a tutti.